Sono nata a Catania, amavo tanto andare al mare, vivevo in questo piccolo paesino dove ci conoscevamo tutti, dove mia nonna era la mia vicina di casa. Io sono stata sempre una persona, soprattutto da piccola, molto insicura, appena qualcosa cambiava nella mia vita, ma anche se dovevo andare a dormire in un posto diverso, mi cambiava qualcosa dentro, io già non avevo più fame perché ero emozionata. Le mie emozioni, sia positive che negative, poi sin da bambina le ho sempre gettate lì. Per lì per me è normale, capita quando non hai fame, no? Poi però te ne accorgi quando il periodo è prolungato e allora là ti accorgi che aspetta, non è che non ho fame ora, non ho fame nella vita, allora perché? Io lo divido in due periodi. Il periodo, quello dove ero più adolescente, quindi 13-14 anni, che è stato molto brutto perché non sapevo come gestirla ed è stato forse anche quello più forte in realtà, ma breve. Rispetto al secondo periodo, che comunque ero già maggiorenne, avevo una consapevolezza diversa, avevo una persona accanto. Io parlo di prima e seconda volta, però tra questi anni ci sono stati altri momenti, di alti e bassi. Non era di peso da me in prima persona, quanto più da quello che mi stava accadendo intorno. quando è cominciato tutto, se dobbiamo identificare con un anno, avrò avuto forse 14 anni. Avevo rotto il fidanzatino del tempo, per me fu il dramma della vita e quindi sì, anche lì la mia emozione l'ho buttata lì. Non sentivo la necessità di mangiare. Mi faceva schifo, mi faceva non mi piangere, sembra una cosa ripugnante, disgusto. La prima volta sicuramente era un periodo di depressione, cioè proprio non volevo uscire, non volevo vedere nessuno, piangevo sempre, madonna quanto più andavo in quel periodo. Tantissimo, forse è il periodo che non ho pianguto di più nella mia vita. Però oggi ti dico che era solo, sai, quello step mentale. Appena poi ti lanci è semplice e poi appunto è nato tutto naturale, fortunatamente. In quel periodo, se devo essere sincera, non mi rendevo conto dei miei cambiamenti fisici. Però le persone che erano intorno a me sì. Mi ricordo che appunto io avrò avuto 14 anni, 15 anni e mio fratello 9. E mi disse, Ersilia guardati come sei fatta, ma non lo vedi come sei diventata magra. Guardati allo specchio, mi mi sei davanti allo specchio. E per me là è stato un dramma, perché... Ma di più mi dispiaceva per lui che per me. Perché mi sono resa conto che veramente stavo facendo soffrire qualcun altro, un bambino. Se te lo dici un bambino allora capisci che c'è veramente qualcosa che non va. Quando faccio riferimento alla prima volta che la giustifico come una delusione d'amore, ecco, dubito che con una delusione d'amore si possa diventare anoressici. Credo che ci deve essere molto più di dietro. E questo non lo posso dire io. Per questo la ti dico. Che forse mia madre avrebbe potuto fare qualcosa. La seconda volta è un po' più difficile trovare una ragione. Il fatto di un'insatisfazione personale probabilmente ha influito tanto. Perché comunque sia io lavoravo come babysitter. È una cosa che mi piaceva perché volevo tanto bene alla bambina. Io sapevo che potevo dare di più. Quindi non mi sentivo ripagata dalla mia città. A me piace Catania però non penso di essere molto stabile. Appunto sono dimagrita tantissimo e tutti quanti me la facevano pesare. E tutti quanti mi dicevano oddio ma quanto sei fatta magra. Ma sei milanoressica ma mangi. Anche in maniera a volte un po' indelicata. Per la prima volta ho sofferto dal giudizio della gente. Ed è stato brutto. Vi ricordo che una volta ho incontrato questa mia compagna di classe. Eravamo amiche quindi. Ciao Monica. Tipo da quanto tempo. E lei mi ha urlato. Oddio ma quanto sei fatta magra. Ma mangi. Ciao tesoro. Sto bene e tu? Che cosa gli devi dire? Quella che mi urla nel centro commerciale. O quella piuttosto che mi commenta la foto su Facebook. Devi stare la spiegare. Sicuramente in quel periodo non potevo parlare di cibo. Cioè non potevo parlare di questa cosa. Perché mi dava fastidio. L'oggetto che mi rappresenta questo periodo è sicuramente la pesca. Perché mia nonna per invogliarmi a mangiare mi imboccava. Mi sbucciava questa pesca con le sue mani e me le imboccava. E anche due pezzettini di pesca per me era il traguardo della vita. Sai perché mi ricordo la pesca? Perché una volta la mangiai. Quindi lei disse aspetta allora questa se la mangio le pesche. Guarda nonna ti ho portato la pesca. David è stato molto delicato con me. Molto. Non mi ha mai spinto più di tanto. Non mi ha mai forzata. Mia nonna è stata molto d'appoggio per me. Perché comunque sono sempre stata molto legata a mia nonna. A me nonna era proprio preoccupata. Era triste. Mi dispiaceva. Avevo un senso di colpa nei confronti delle persone che volevo bene. Però dall'altra parte comunque sapevo che non lo stavo facendo apposta. La mia madre soprattutto facendo riferimento all'ultima volta è stata molto pesante. Molto. Che vabbè è assolutamente comprensibile. Però lei era più oddio controlla se mangio. Oddio ma non mangi. Cosa succedendo? Perché non stai mangiando? Tu devi mangiare. Ho fatto una cura poco prima di venire qua. Una cura omeopatica. Per prendere peso con la base di propoli e roba naturale. E in realtà questa cosa però a me scatenava l'effetto inverso poi. Perché mi dà fastidio. Io fossi stata in lei probabilmente avrei agito prima. Nel senso ci sono stati dei momenti in cui veramente forse avrei avuto bisogno d'aiuto. Non lo so se è una convinzione che mi hanno messo gli altri. O se veramente si poteva fare qualcosa prima. In entrambi i casi sono venuti d'estate. Quindi nel periodo di agosto. Periodo in cui trasferisco a casa al mare con mia nonna. Questa casa al mare per me è sempre stato un punto di sfogo. Perché è una casa nella quale sono cresciuta. La quale sono molto affezionata. Quindi mi ha aiutato in entrambi i casi. La prima volta è stata fondamentale. Perché siccome mia madre non sapeva più cosa doveva fare. Mi ha detto vai a casa al mare. Ti chiudi là. Ti stai con la nonna. Un mese. Senza nulla. Io non mi prendevo il telefono. Non c'avevo nulla. E sono rinata. E appunto poi dall'altro superata. E la seconda volta pure. In realtà mi è stata molto d'aiuto. È il mio posto nel mondo. Sono sempre stata molto apatica. Non mi sentivo di combattere. Di forzarmi di pensare il contrario. Mi ho sempre lasciato scorrere i pensieri come venivano. Non sono mai andata a fondo la cosa. Non sono mai andata a cercare su Google. Confrontata con le persone sì. Perché una mia grandissima amica purtroppo sta vivendo questo periodo. È molto più intenso del mio. Ma lei proprio ha un disturbo alimentare. Confrontandomi con lei in questi anni mi sono reso conto che abbiamo avuto molti aspetti simili. Vedendo la situazione in cui è lei non riesco a definirla. Non riesco a definirla. Perché non lo so. Io poi cerco anche un po' di minimizzare. Li chiamo periodi bui. Non sono mai riuscita a dare un nome. Esatto. A questa cosa. Sono sempre vissuta con poca consapevolezza. Quindi per questo forse sto facendo un po' fatica. Forse un po' di confusione. Forse non sono molto chiara. Perché forse ancora non lo so. E mi piacerebbe un giorno parlarne di tutto ciò con uno psicologo. Comunque qualcuno che può andare in fondo. Per capire appunto. Per fare un po' di chiarezza in tutto questo casino. Se posso dire una cosa a chi non ha mai avuto l'opportunità appunto di rapportarsi con persone che hanno avuto disturbi alimentari o comunque problematiche col cibo in generale. Sicuramente una cosa che mi sento di dire è che bisogna essere molto delicati. Non devi come comunque mi è stato fatto a me fare notare tanto il cambiamento fisico delle persone. Dire oddio quanto sei magra oddio ma mangi. Perché così non si sprendono le persone ma si abbattono. Piuttosto devi cercare di rimanere in silenzio. Anche se nel tuo piccolo vuoi fare qualcosa se non sei un amico stretto, un parente. Piuttosto non fare nulla. Vivo a Londra da due anni e mezzo circa. E sono trasferita qui con il mio fidanzato. Londra è stata un po' la mia salvezza. Ho ripreso proprio con uno stile di vita tranquillo, sano. Ho sempre mangiato da subito. Ho fatto tante prime esperienze. Ho imparato a buttarmi, a lanciarmi nelle cose. La compagnia per la quale comunque lavoro mi ha dato tante soddisfazioni. Sono cresciuta tanto, sono diventata manager in meno di due anni. Era una cosa che non mi aspettavo minimamente. Perché devo dire anche che ero una pessima team member. E quindi questo mi ha, non lo so, mi ha fatto sentire utile per qualcuno. Utile, bravo a fare qualcosa. Mia madre era molto preoccupata che io venissi qua. David poi molto più in là mi disse che mia madre poco prima di partire l'ho presa in disparte. hanno detto ti prego se succede qualcosa. Comunque fammi sapere se vedi che Ursula non ce la fa. Falla scendere. Che appunto avevano paura che io già molto debole. In più mi distacco della famiglia, mi distacco dagli amici, mi distacco della mia città. Questa mi muore. Ovviamente. E invece no. La Fenice risorge dalle proprie scenari. Grazie. 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 Grazie.